Rocco, allora, la nomina assessore, quindi in giunta, deleghe importanti, partendo dal bilancio fino al porto, deleghe veramente importanti. Le tue sensazioni a caldo? Le sensazioni sono positive perché, vabbè, sono già dieci giorni che stiamo, bene o male, prendendo cognizione della situazione. Chiaramente c'è molto da fare, però sono veramente molto fiducioso perché vedo il giusto mix di entusiasmo e competenza. E credo che faremo un buon lavoro. Da domani sarà ancora più forte e presente il nostro impegno al Comune e quindi spero che nel brevissimo tempo si riuscirà a vedere qualche risultato. Chiaramente adesso affronteremo subito le cose più imminenti, diciamo così, e poi inizieremo a programmare una serie di interventi importanti. Rocco, stasera nessuna domanda? Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro!